Il sindaco Valentina Vadi, un torneo di tennis tavolo che conferma il legame tra la città di San Giovanni e questa particolare disciplina. Sì, un torneo importante che si svolgerà sabato 3, domenica 4 febbraio al palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno in Via Genova, organizzato dall'associazione sportiva Tennis Tavolo Valdarno. Siamo veramente molto felici che questo torneo interregionale, perché ci saranno atleti che verranno non solo dalla Toscana, ma anche dalle regioni vicine, sia disputato a San Giovanni Valdarno e ha questo lungo legame da tanti anni con il Tennis Tavolo con questa associazione che ha in Vivaldo Nannone il suo presidente ma anche il suo importante punto di riferimento. Negli anni questa società è riuscita veramente a far arrivare a livello nazionale figure importanti, attualmente è proprio il figlio di Vivaldo Nannone, il ct del Tennis Tavolo della Nazionale Italiana. Quindi noi siamo molto orgogliosi, abbiamo supportato e patrocinato l'evento e invito tutti a partecipare da sabato 3 febbraio alle 9 fino all'intera giornata di domenica 4 febbraio.